Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi parlerò dell'annuncio ufficiale del nuovo gioco di simulazioni di corse Le Mans Ultimate, prepariamoci a scendere in pista Allora, il titolo è stato appena annunciato come nuovo titolo ufficiale che rappresenterà e che rappresenta già tuttora Le Mans è il World Endurance Championship o il meglio conosciuto WEC Questo gioco è previsto per la fine dell'anno e promette un'esperienza di endurance definitiva Le Mans Ultimate includerà l'intera griglia di partenza del WEC 2023 con tutte le hypercar, le attuali GT del WEC e ovviamente le auto LMP2 Inoltre ci si aspetta che l'elenco delle auto GT3 che dovrebbero debuttare il prossimo anno che venga aggiunto al gioco poco dopo il suo rilascio Quindi bella sorpresa anche questa delle GT3 in questo nuovo titolo Inoltre saremo in grado di correre non solo alle Mans ma anche negli altri famosi circuiti di gara come Monza, Fuji e Spa E non dimenticate che potrete giocare l'intera Le Mans 24 ore con un clima completamente variabile e un ciclo giorno e notte in tempo reale Le Mans Ultimate è sviluppato da Studio 397 gli stessi sviluppatori dietro R-Factor 2 e utilizzerà il motore P-Motor 2.5 dello studio stesso Questo gioco promette di essere più accessibile con un'esperienza di controller migliorata rispetto proprio a quella di R-Factor 2 Il gioco includerà ovviamente i soliti formati di corse multiplayer online ma ci sarà anche un'opzione di cooperazione asincrona In cui i piloti potranno uscire dall'auto dopo un turno in temporale e un altro potrà entrare e prendere il posto anche ad un momento diverso da quello che è stato fatto dal primo Cioè una cooperativa veramente bestiale Cioè è un'opzione che veramente mi intriga Cioè comincio io lunedì poi magari un mio compagno vuole continuare il martedì e via dicendo per fare gli stint a distanza Proprio una figata Verranno poi dati altri dettagli del gioco proprio tra oggi e giorno 11 proprio giugno Dove sarà anche giocabile una versione preliminare del gioco Una specie di demo E successivamente il gioco sarà portato ad altri eventi lungo il calendario di Endurance di quest'anno Quindi ce lo faranno scoprire piano piano durante le tappe dell'Endurance Mi piace molto intrigante molto figa questa cosa qua Le notizie che abbiamo attualmente è che sarà per il momento compatibile e quindi giocabile solo per PC Stanno ancora valutando se mettere in cantiere o meno anche la versione per console Cosa aggiungere altro ragazzi Stephen Wood il nuovo CEO di Motorsport Game ha espresso grande entusiasmo per il gioco Dicendo che l'obiettivo è quello di far sentire i giocatori subito investiti nel gioco Le Mans Ultimate Portandoli in un viaggio di gioco con aggiornamenti costanti che secondo me renderanno succulento il titolo Con queste parole ragazzi concludo la presentazione di questa notizia bomba È molto bella e figa perché quando ci sono nuovi titoli di questo genere qua Fa molto bene a noi giocatori Cosa aggiungere altro Se questo video e questa notizia vi è piaciuta lasciate un pollice in su Non esitare a commentare Perché no ragazzi se volete rimanere aggiornati iscrivetevi al canale E attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video Da Fabrizio è tutto Un abbraccio Ciao